...poetico classico con brio, languido a volte. Vedrete che c'è davvero tutto questo in ciò che stiamo per ascoltare. Ma ora si spegneranno le luci, il sipario è già aperto e noi trascorreremo un periodo di tempo che non sappiamo ancora quanto sarà, ma sicuramente affascinante, con due grandi musicisti. Signore e signori, Danilo Rea e Flavio Voltro. Grazie. 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 Grazie.